a partire dal diciottesimo secolo il romanzo è soprattutto lo scenario di un conflitto un conflitto tra un io che vuole emergere prevalere trionfare essere felice e un mondo di uomini che si oppone ai suoi tentativi questo aspetto si riflette nelle scelte narrative soprattutto nell'adesione totale alla verosimilianza del racconto per rendere verosimile un racconto e fare in modo che chi legge sia portato a credere a ciò che gli viene narrato la strada più semplice è quella della narrazione in prima persona lo scrittore finge di essere il protagonista del racconto come accade per esempio nei romanzi di difo ma per dare al lettore un'impressione di completa verosimilianza per aderire davvero ai pensieri e ai sentimenti dei protagonisti non c'è niente di meglio che ricopiare o meglio fingere di ricopiare le loro lettere per questo soprattutto in francia dove la corrispondenza epistolare diventa nel corso del 600 e del 700 una vera e propria arte gli scrittori cedono spesso la parola ai loro personaggi di fatto alcuni dei primi grandi romanzi moderni sono romanzi epistolari per esempio la nuova eloisa di rousseau e le relazioni pericolose di laclos ma questo modello finisce poi per travalicare i confini francesi sono infatti romanzi epistolari due libri fondativi della moderna narrativa tedesca e italiana rispettivamente i dolori del giovane Werther di Goethe e le ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti